a Rai Cinema. Mancano pochi giorni all'inizio del Tocca T, il festival internazionale dei giochi in strada è diventato ormai un vero e proprio evento, anche mediatico. L'appuntamento è per giovedì. Cominciamo a calarci nella festosa atmosfera, andando a conoscere l'ospite d'onore di questa tredicesima edizione. Piazza dei Signori, questo ultimo giorno sarà Piazza Catalunia. La regione nord-orientale della Spagna, con i suoi giochi animati dal calore e dall'allegria tipica delle culture mediterranee, è l'ospite d'onore del tredicesimo Tocca T, e allora non potranno mancare i castels, le torri umane, una pratica che è stata eletta patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, affidata durante il Tocca T alla comunità di Alcover, nella provincia di Terragona, un gruppo di un centinaio di elementi che si impegna a trasmettere i valori e il desiderio di fare, che sono alla base di tutti i castels. Le immagini che state vedendo sono tratte da un documentario che sarà proiettato sabato sera al porto della Giarina, che per l'occasione si trasformerà in una grande e suggestiva sala cinematografica. Dai castels ai birilli alla morra, questa edizione del Tocca T sarà insomma caratterizzata da un continuo incontro, confronto ludico tra Italia e Catalunia, con i castels catalani, che saranno affiancati dalle torri umane della Bari. Grazie. 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 Grazie.